E subito dopo, non c'è più senso, perché ho comprato questa? Perché abbiamo incontrato una persona che ha utilizzato dei meccanismi mentali e verbali che ci hanno condizionato a fare esattamente quello che voleva lui. Va bene, questo è la prova che faremo stasera. Va bene, e poi vediamo adesso. Allora io! Io questa sera, questa sera vi farò un regalo, e vorrei chiedere la collaborazione di questa ragazza se è possibile? Sì? Guarda, prendi questo contenitore, questo contenitore ci ha alle chiavi, vai in giro e fai raccogliere una chiave alle persone fino a quando ci sono chiavi, vi hai detto grazie. Sei leggerino? Io non ho esatto, ho toccato un ruolo. Infatti non sentito il cazzo. Io sono i grandi venditori.